Io solitamente parlo a braccio come sapete, oggi viceversa mi sono persino scritto quello che voglio dire perché voglio cercare di spiegarmi al meglio. Prima di tutto voglio fare tre ringraziamenti per le persone grazie alle quali io sono qui oggi. Il primo mio padre che mi pagò nel lontano 1991 la prima tessera della Lega, il secondo a Umberto Bossi che ha il grande merito tra i tanti di avermi insegnato che cos'è il coraggio e come avere coraggio. E il terzo a tutti i militanti che ho conosciuto negli anni che non sono più tra noi, che non sono qua oggi, ma grazie ai quali noi oggi siamo qui, anche per loro noi combattiamo, anche con loro noi vinceremo. Ciao Gilberto. Se dovessi riassumere pragmaticamente in una frase o in uno slogan quello che è l'obiettivo della segreteria della Lega Lombarda, questo sarebbe il segretario federale Matteo Salvini sta facendo di tutto per portare a casa un vasto consenso, la Lega Lombarda farà di tutto per non perdere neppure una virgola di questo consenso. In questi giorni la Francia sta bombardando l'Isis, sapendo che non potrà scrivere la parola fine a questa guerra solo con gli aerei. Così, volendo fare una similitudine, il nostro ottimo segretario federale è in televisione, che rappresenta la nostra avviazione, la nostra potenza di fuoco, ma le guerre si possono concludere e vincere solo con la fanteria, sul campo e questo è l'esercito della Lega Lombarda. Negli ultimi mesi, credo anche i meno attenti tra i soci ordinari militanti, si siano accorti che la Lega Lombarda è tornata a essere la potentissima. I nostri militanti sono ascoltati e se serve sono consigliati. E novità saranno valorizzati con le tessere al merito. Le nostre sezioni sono aiutate, i manifesti, i volantini e il materiale più diverso è nuovamente distribuito. I nostri rappresentanti hanno modo di crescere anche attraverso le scuole di formazione, quelle gratuite per tutti i nostri militanti che si fanno il mazzo lavorando tutto l'anno. La nostra base è tornata a ricevere strumenti di informazione per la battaglia sul territorio, come il giornale informativo della Segreteria Nazionale della Lega Lombarda. I nostri sindaci hanno nuovamente un supporto. Abbiamo già svolto un'assemblea con il nostro governatore Roberto Maroni, che ringrazio, e con l'assessore Massimo Garavaglia, per il quale tra l'altro chiedo un applauso per Massimo Garavaglia, perché se dare ascolto al territorio e reato sappia la magistratura di sinistra che tutta la Lega Lombarda è orgogliosamente fuori legge. Abbiamo rilanciato gli enti locali, i nostri amministratori non devono essere o sentirsi soli. I social, il sito e tutte le forme più moderne di comunicazione sono state riorganizzate, ma senza dimenticare il vecchio volantino e il militante armato di scopa o vernice, perché io me lo ricordo bene. Una segreteria nazionale utile e sempre presente sul territorio, una segreteria nazionale necessaria ed efficiente, anche se non sufficiente se non ci fossero sezioni e militanti. Con una nota importante, una segreteria nazionale che costa quasi zero, fondata sullo spirito di sacrificio e la passione dei militanti che lavorano gratis. Permettetemi di dire grazie a tutti coloro che hanno iniziato con me questa avventura, nella nuova segreteria nazionale, dagli enti locali, al team di avvocati che lavora egregiamente, ai centralinisti, agli organizzatori e al coordinamento dei sindaci. E saluto anch'io il sindaco Barni, tieni duro Maurizio in questi giorni difficili, siamo con te. Se invece dovessi plasmare idealmente la Lega Lombarda e tutte le sue segreterie sul territorio, i suoi eletti, sui quadri, in una frase presa negli anni in cui facevo il coordinatore dell'MGP, questa sarebbe «abbiamo tenuto aperto il cassetto dei nostri sogni e continuiamo a farlo tuttora, avremmo potuto chiuderlo per nasconderci dentro una poltrona, uno stipendio immeritato, una stagione di vanagloria». Invece l'abbiamo tenuto aperto per far vedere a tutti come si costruiscono i sogni, con il sacrificio che la nostra non è una rivoluzione di bandiera, con il coraggio delle proprie idee, anche a costo di essere tacciati quali sognatori o, peggio ancora, sovversivi oppositori di chissà quale sistema, con la voglia di dimostrare che quella magia che ci ha fatto alzare la testa alla fine degli anni Ottanta non ha esaurito il suo incantesimo, con la speranza infine di dimostrare che è facile essere idealisti da giovani ma che si può continuare a esserlo per tutta la vita. Voglio essere chiaro e ripetere quello che ho detto a molti di voi a quattro occhi negli ultimi mesi, una segreteria nazionale che faccia sentire tutti parte del movimento, senza emarginati o isolati. È mia ferma intenzione coinvolgere chiunque abbia voglia di lavorare. Basta voler lavorare. Non isolare nessuno, non isolare ma entusiasmare ogni singolo militante. Esaltare le qualità e le capacità di ognuno di noi e che nessuno si possa sentire dimenticato o non facente parte della nostra comunità politica. Serve una segreteria nazionale che unisca, che punti a smussare e risolvere i problemi che ci sono e che ci saranno sul territorio, dando cittadinanza a tutti i territori e a tutte le componenti. Ovviamente voglio farlo su parametri di meritocrazia o, se volete, su parametri di chi fa gioco di squadra invece che magari passare il tempo a rompere le palle. Diamo spazio a tutti. Le mie parole saranno confermate dai fatti. Non ci si dimenticherà di nessuno ma a tutti verrà chiesta una cosa sacra per i Lombardi. Di lavorare, di dare il meglio e il massimo e di più, ed è la cosa più importante, di avere senso di appartenenza. Perché vedete prima di tutto e prima di tutti viene la Lega e la battaglia di libertà del nostro popolo, prima di ogni vega, prima di ogni problema. Come insegna la storia, le divisioni sono sempre dettate da egoismi personali e chi lotta per la propria terra non ha modo e tempo di pensare al proprio interesse. Se fossi in grado di mostrarvi un esempio, vi racconterei delle tante vittorie, uno dei risultati che non sono ovviamente venuti da soli, ma sono stati la conseguenza del coraggio, della voglia di mettersi in gioco e magari proprio in realtà dove l'identità sanguina per la scellerata politica della nostra sinistra. Il professor Miglio diceva che con il consenso della gente si può fare tutto, cambiare il governo, sostituire la bandiera, unirsi a un altro paese, formarne uno nuovo. Oggi io presento al congresso una mozione con il sostegno di tutti i segretari provinciali della Lega Lombarda e di tutti i consiglieri regionali. La nostra priorità politica, ma ancora di più storica, è il referendum dei Lombardi. Un referendum che a prescindere da esito e affluenza per i quali dovremmo dare anche sangue, ha anche una valenza più alta, sancire una volta per tutte l'esistenza dei Lombardi in quanto popolo, obbligare per un istante il mondo a fermarsi e prendere atto che esistono la Lombardia e i Lombardi e come popolo tra i popoli rivendicare il diritto naturale alla propria esistenza, alla libertà e al rispetto. Ricordiamoci che la Lega deve essere, parole di Umberto Bossi, sintesi di cuore e testa. Usiamo la testa, consapevoli che per volare bisogna andare contro vento e in politica bisogna saper rischiare buttando a volte il cuore oltre l'ostacolo. Quindi noi il referendum vogliamo farlo, vogliamo rischiare per sancire quello che vogliamo, essere popolo tra i popoli. Il TTIP, l'Europa dei Teclocrati, l'Euro, l'invasione programmata, l'islamizzazione delle nostre città, il terrorismo islamico in casa nostra, gli interessi dei poteri forti contro la libertà dei popoli. L'essere stati qualche anno il governo in passato e magari anche per breve tempo, non deve illuderci sull'immensità delle forze in campo che sono a disposizione dei nostri avversari. E oggi con un ulteriore pericolo, la non percezione da parte della gente delle politiche votate al suicidio del governo Renzi, un governo che più che avversario è dichiaratamente nemico del nostro Paese. Un esempio per tutti, lo Ius Soli, retroattivo, un crimine terribile, un crimine, un crimine, celato da finti buoni propositi, la cittadinanza dei bambini. Ma sai a un bambino che cavolo gliene fotte della cittadinanza? In realtà è la soluzione finale per distruggere quello che siamo, dare il diritto di voto attivo e passivo a neoitaliani che parlano solo l'arabo, far decidere il nostro futuro a centinaia di migliaia di fedeli di Allah, italiani che vorranno l'infibulazione o la macellazione islamica e chissà dove sono gli ambientalisti di sinistra, italiani che chiederanno di costruire una moschea dietro l'altra e chiederanno di introdurre nel nostro ordinamento la policamia e dov'è la poltrini e le femministe di sinistra, italiani che a breve inevitabilmente saranno anche terroristi musulmani, fedeli al califato di turno. La cittadinanza facile non è neppure revocabile. Chi la ottiene? Anche qualora si macchiasse di crimini efferati, quale il terrorismo che in questi giorni abbiamo conosciuto qua in Europa molto bene non è revocabile. Questo è un governo di collaborazionisti del terrore e chiediamo a quel fenomeno da baraccone del ministro Alfano che dice che espellerà i predicatori dell'odio, ma come farà a espellere i predicatori di odio o persino i terroristi islamici se saranno diventati cittadini italiani? Svegliati! Non hanno neppure previsto una selezione formale sulla lingua o la cultura e l'appartenenza valoriale, tanto è la fretta di cancellarci e il bello è che lo stesso Partito Democratico vota per cancellarsi perché in meno di una generazione sparirebbero anche loro un governo di criminali che vota per avere tutto subito lasciando i nostri figli e persino i loro in un paese nel quale saranno presto stranieri. La nostra priorità deve essere quella di mandarli a casa, di mandare a casa questo governo, non per ragioni solo ed esclusivamente politico-economiche, ma per ragioni di sopravvivenza vera e propria. Noi non rinunciamo, i nostri figli non devono essere stranieri in casa propria. Il rischio è reale, l'Islam ci ha dichiarato guerra e noi non possiamo rassegnarci a guardare senza far niente e non possiamo neanche limitarci a difenderci nelle nostre case, in casa nostra, perché vorrebbe dire rendere le nostre città terreni di guerra e di scontro. Se vogliono lo scontro, e lo vogliono, lo dobbiamo portare in casa loro, come ha fatto il Presidente Putin, con gli aerei per radere al suolo l'Isis, il nemico islamico, che ci si dimentica troppo spesso di dire islamico, reagire per i nostri figli, non ci hanno sconfitto e non dobbiamo avere paura, non dobbiamo avere paura di vivere come abbiamo sempre vissuto, non vogliamo cedere ai ricatti islamici sul crocifisso, sul Natale nelle scuole, sul salame o sul prosciutto. Questa è casa nostra, la porta è aperta, torna pure al tuo paese se non ti va bene. Dobbiamo anzi riscoprire le nostre identità come milanesi, comaschi, pavesi, brianzoli, lombardi, padani e anche europei. Bergamaschi, sono mezzo bergamasco e ci mancherebbe altro. Saluto anche la mamma. Alzare con orgoglio le nostre bandiere contro l'infame bandiera dell'Isis. E chiedo una cosa al Governo, visto che per ogni questione il problema sono sempre i soldi, io da buon brianzolo posso anche comprendere che persino la lotta al terrorismo islamico sia un problema di soldi. Ma chiediamo al Governo, e questa settimana la Lega chiede al Governo, di fare una cosa che costa zero, approvare o quantomeno far finalmente rispettare regole che già ci sono qua a casa nostra, che vietino per sempre l'uso del burka e del niqab qua sul nostro territorio. Costa zero, costa zero, però che lo facciano per garantire la sicurezza. Invece chiacchierano di tutto e di più, ma non hanno fatto una virgola per combattere il terrorismo qua a casa nostra. E un'ultima cosa, frutto della mia vita in Lega, se potessi infine farvi un regalo a tutte le donne e gli uomini della Lega Lombarda, vi farei ascoltare tutto quello che mi avete detto e nello stesso momento vi farei guardare gli occhi di tutti i militanti incontrati. Negli sguardi di ognuno di voi c'era la profondità di chi ha davanti a sé un progetto. Tanti di noi, io compreso, anni fa hanno ricevuto avvisi di garanzia, hanno avuto processi e condanne, non perché abbiamo rubato o spacciato droga, non perché abbiamo incendiato cassonetti e tantomeno perché abbiamo picchiato qualcuno che la pensasse in modo diverso da noi. Ma siamo stati minacciati perché attaccavamo manifesti, davamo volantini, andavamo a manifestazioni, gesti che in realtà erano semplice partecipazione, lotta politica e democratica per l'autodeterminazione della Padania. Io anche oggi di quel mio avviso di garanzia me ne vanto. Io oggi ripeto orgoglioso quello che mi disse quando ero poco più che ragazzino Umberto Bossi. quel foglio non è un avviso di garanzia, quel foglio è una medaglia al valore per chi lotta per la libertà del Nord. La Lega negli anni ha percorso strade diverse, ma sempre con il medesimo fine. il federalismo istituzionale, la devolution, il federalismo fiscale, la macroregione, le Italie. Non confondiamo mai tattica e strategia. La gloriosa Lega Lombarda non lo farà mai. Abbiamo ben chiaro, per quanto mi riguarda, da dove veniamo e dove vogliamo andare, dove abbiamo sempre voluto andare. E chiudo pensando al domani, dove se fossi in grado di consigliare cosa scegliere per il futuro, ricorderei razionalmente, malparlando al cuore di ognuno, se divisi o perduti, o uniti fino alla libertà. Ci saranno sbagli di tutti, io per primo. Ma non dovremo mai dimenticare il fine, talvolta abbassando la guardia, perdendosi nei salotti e nei labirinti di una politica che non sarà mai la nostra, disimparando a fidarci di noi stessi, scordandosi che ovunque saremo o qualunque cosa staremo facendo, saremo sempre lì per dare onore al destino della nostra patria e non prestigio alla nostra persona, senza ergersi a capi di un esercito di cui abbiamo più volte giurato di essere umili soldati. Se resisterete inchiodati a quella maledetta terra che avete giurato di liberare dalla schiavitù, dalla corruzione, dalla disonestà, da quella politica così lontana e così vicina, da quelle catene che rendono ancora troppo Italia la nostra padagna, restate, restate, lottate e la storia ci darà ragione, uniti fino alla libertà o come ho sempre detto, fino all'indipendenza. Grazie, viva la Lega Lombarda, padagna libera, avanti per vincere! Grazie! Vieni qua Paolo, io credo che la Lega Lombarda meriti che Paolo Grimoldi sia, diciamo così, proclamato segretario della Lega Lombarda, quindi chiedo a Guido Guidesi che è Presidente in qualche modo di formalizzare questa richiesta che in qualche modo è stata anche ratificata nelle elezioni primarie in tutte le segreterie provinciali. Allora la procedura è questa, così rispettiamo anche il regolamento, Giancarlo Ciorgetti è Presidente della Lega Lombarda e da delegato del congresso propone l'acclamazione, io chiedo a voi di procedere all'acclamazione per cui mi fate un piccolissimo applauso adesso e adesso me ne fate uno grande e lungo per proclamare Paolo Grimoldi ed acclamarlo segretario della Lega Lombarda. Grazie. 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 Grazie.